La prima cosa che penso è che ho voglia di tornare e di viverlo in incognito, perché in questi giorni non ho avuto il tempo per perdermi nella folla e gustare pienamente tutte queste sorprese. Penso che Tocatì sia fondamentalmente un luogo di sorprese, un luogo di memoria, perché tutti noi abbiamo un Verona che si mette a giocare nelle strade, abbiamo un riferimento alle nostre memorie personali, alle memorie della nostra infanzia, un'infanzia sicuramente più libera, senza televisioni, con le strade a nostra disposizione, le campagne, la città. E quindi tutto questo credo sia di tradizioni, ma anche di creatività, di sorpresa, di incontri. E questi incontri li ho contato, sono felicissima di quelli che ho potuto vivere in questi pochi giorni. E sarò anche molto felice di tutti gli incontri che Penso Tocatì mi darà l'opportunità di fare negli anni a venire. Grazie a tutti!